Guarda, guarda cosa succede! Guarda! Cos'è? Ragazzi, a questa è un'anteprima esclusiva, probabilmente siamo i primi in Italia a farvela vedere Vi chiedo gentilmente di lasciare tanti like Lasciate subito un like perché quello che è successo è qualcosa di pazzesco E noi l'abbiamo visto in diretta e abbiamo le immagini Nessuno se le aspettava ragazzi Allora, avete presente che su Fortnite ultimamente c'è stato il razzo, no? E sapete che il razzo ha creato la spaccatura nel cielo, ok? Oggi si sbloccava la skin Road Trip che ho sbloccato E sia da oggi ma anche da ieri, anzi da due o tre giorni Ci sono questi fulmini che si abbattono sulla macchina Che ci fanno triggerare per il suono che fanno, no? Esatto, quello che facevano Perché quello che è successo oggi, durante una partita in diretta Ha qualcosa di incredibile Quella che avete visto all'inizio era la nostra reazione È partito un fulmine come al solito che si è abbattuto esattamente lì a Palmetto Alle 15.10 Questo fulmine però è durato più del normale Perché guardate che è successo Ha creato un cubo Un cubo Ma... Per poi è dalla crepa Da cui è partito il fulmine Come vedete si è smaterializzata Quindi noi adesso su Fortnite non abbiamo più crepe in alto Però ce la dite che i Rift ci sono comunque, eh I Rift ci sono comunque Ragazzi, ha creato questo cubo che è misterioso Ora ve lo facciamo vedere E perché questo cubo ha dei poteri speciali Allora, guardate ragazzi In alto, in cielo, c'è il sole che splende E non ci sono più le crepe E lì c'è un cubo, ragazzi Questo cubo, come vi anticipavamo, ha dei poteri speciali Ora scendiamo e vi facciamo vedere Scusate anche se siamo un attimo così Io sto con gli occhiali col cappello È tardi, eh Sono veramente dieci minuti fa Sì, è tardissimo Ok, stanno andando tutti sopra, eh Se io prendo una cassa intanto Ah, ok, allora io ti aspetto qua Ma se io sparo lì succede qualcosa Se io stivo sparo, sì Oddio, io voglio È successo qualcosa? Non lo so Sì, è successo qualcosa Oddio, ho ucciso una tizia Oddio, mi ha sparato in aria Vediamo se si può distruggere con i C4 Io ho preso i C4 E ragazzi, non vi ho detto le particolarità di questo cubo Perché guardate, adesso io ci sto vicino E guardate il mio scudo Sta aumentando Esatto, perché più gli starete vicino E più il vostro scudo aumenterà Ok Intanto ho messo a terra uno Arrivo, eh Ho eliminato un altro E mi sono fatto malissimo Ok Però va bene E ragazzi, guardate Da questa clip che abbiamo registrato poco fa Io ho ucciso un nemico Stando addirittura sopra il cubo Non si sa come ho fatto Io stando sopra il cubo Ho noccato un nemico Oddio, guarda Perché l'hai colpito, vero? Ragazzi, secondo voi Che cos'è questa cosa? È una cosa aliena? Che cos'è secondo voi? Chi l'ha portata? Perché è qua? Fatecelo sapere Qua sotto nei commenti Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi È qualcosa di pazzesco Pazzesco Comunque ripetiamo Anteprima esclusiva, eh Veramente E ragazzi Se andrete sul cubo Come vedete Rimbalzerete E quindi Boh È stranissimo Qui Era tutto Da Dexter e il Cina Noi ci vediamo per il stesso nuovo video Vi mandiamo un abbraccione Un salutone E ci riusciamo Ciao gente